L'oggettivo Amarognolo, Amarognolo, declinato sulla Sicilia, che ha scelto Beppe Grillo e che ha messo, diciamo, inciso sul suo blog per commentare il risultato. Però, Ferraresi, io voglio stare alla notizia che ha aperto in qualche modo la mattinata, cioè l'arresto di questo neoparlamentare dell'Udc. Tra le forze politiche a denunciare la presenza di impresentabili in lista, sicuramente il Movimento 5 Stelle, che peraltro poi si ritrovò con una persona impresentabile in lista e l'ha cacciato via, tanto per essere chiari. La scelta di cancellieri è andata in quella direzione. Ecco, questo arresto di stamattina, che vi fa dire in più rispetto al voto siciliano, rispetto a quello che avete detto nei giorni scorsi? Beh, che avevamo ragione. Sicuramente il Movimento 5 Stelle non è vero che tutte le liste avevano impresentabili. Il Movimento 5 Stelle ha denunciato gli impresentabili almeno 14 persone che hanno drenato circa il 4,5% dei voti. 4 sono entrati, 3 dalla lista di centrodestra, 1 dalla lista di centrosinistra e dalla lista di centrodestra diciamo che hanno preso circa il 7,5-7,6% dei voti, quindi sono stati abbastanza determinanti per i risultati. Noi l'avevamo detto, Musumeci ha risposto con Forza Italia che parlava di legalità in modo abbastanza ipocrita, che lui i candidati li aveva scoperti sul giornale, mentre noi l'unico candidato che aveva nascosto una condanna a due mesi addirittura per un reato militare, la nostra risposta è stata di allontanarlo il giorno stesso in cui abbiamo preso la notizia. Quindi è una bella differenza. Ora, chi si ritrova questi impresentabili, uno dei quali appunto è stato arrestato ai domiciliari per concorso in associazione delinquere per evasione fiscale, se ne prende la responsabilità ovviamente, addirittura questa persona, Cateno De Luca, nell'ultimo comizio aveva annunciato di candidarsi addirittura a sindaco di Messina, per non parlare, visto che si parlava di fondi europei, del figlio di Genovese, condannato in primo grado a 11 anni proprio per aver gestito i concorsi di formazione, i finanziamenti che arrivavano dall'Europa in modo truffaldino. Allora stiamo parlando di queste persone, il figlio di Genovese ha preso 17 mila preferenze, allora chi si prende la responsabilità di governare, di aver portato dentro la maggioranza di musumeci, questi impresentabili che hanno di fatto preso una percentuale che garantisce a musumeci la vittoria. Il Movimento 5 Stelle è molto contento, anche ovviamente se la sconfitta c'è stata, di un risultato che l'ha premiato con il raddoppio dei voti rispetto alle elezioni precedenti, addirittura 100 mila in voti in più di quelli che aveva preso crocetta alle scorse elezioni. È un risultato molto importante, però diciamo che noi ci siamo presentati con delle liste pulite e avevamo denunciato le liste di impresentabili degli altri che ora si prendono la responsabilità di quello che hanno fatto e vedremo cosa faranno soprattutto, perché poi queste persone ovviamente vanno ad incidere, condizionano e condizioneranno secondo noi l'attività di musumeci. Ma senta Ferraresi, l'aggettivo amarognolo rispetto al risultato siciliano che ha scelto Beppe Grillo la convince, lo condivide, lo scegliebbe anche lei? Sicuramente non possiamo dirci contenti al 100%, perché è ovvio che noi abbiamo, a differenza di Renzi e del Partito Democratico, che non si è presentato praticamente in Sicilia, abbiamo dato tutto. Luigi Di Maio, Di Battista, tutti i nostri colleghi sono andati in ogni città della Sicilia, è venuto Beppe, stando vicini ai nostri colleghi in una terra molto difficile, abbiamo dato tutto quello che avevamo per vincere, ma ovvio che anche senza questo risultato di vittoria, credo che possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti. Ora vedremo però cosa capiterà in Regione Sicilia con questa cozzaglia di partiti che di sicuro creeranno problemi a musumeci, come avevamo già annunciato. Proiettare questo dato siciliano su Roma, perché la campagna per le elezioni in questa regione era iniziata con Luigi Di Maio, non solo lui, che diceva ci prendiamo Palermo, ci prendiamo la Regione e poi ci prendiamo il Governo nazionale. Visto che è passato quel tipo di risultato, cioè Movimento 5 Stelle e Primo Partito, ma visto che non vuole equalizzarsi, come dire, ha nel suo DNA questa voglia di correre da solo e vista la legge elettorale, c'è il rischio che a Roma tra un anno, tra sei mesi, ci sia questa situazione nel Parlamento? Cioè voi Primo Partito, e aggiungo tra parentesi, lo eravate anche nel 2013 senza gli italiani all'estero, ma ha nell'impossibilità di pretendere la guida del Governo? Si è sempre parlato anche in sede di referendum costituzionale di ingovernabilità, di sapere il giorno dopo delle elezioni chi avrebbe governato il Paese. Bene, hanno fatto una legge elettorale che è tutto il contrario di quello che hanno detto, perché il Rosatellum Bis crea questo, crea lo scompiglio, voti una persona e non sai chi ti ritrovi, voti un partito minore che non raggiunge la soglia, tutti i voti vanno a un altro partito che tu non avevi votato. Insomma, il caos più totale. Però i risultati della Sicilia e del decimo municipio, non dimentichiamolo, visto che è stato detto del malgoverno, che io non vedo, vedo delle difficoltà iniziali in alcune città con problemi enormi che ci hanno lasciato, soprattutto il debito, visto che prima si parlava di debito, dei debiti esosi enormi che ci hanno lasciato le precedenti amministrazioni, è ovvio che all'inizio le difficoltà ci sono, ma come abbiamo visto in comuni importanti come Livorno, dopo un po' si riesce a risolverli nel migliore dei modi. E il decimo municipio, Ostia, ci dà anche questa visione, una visione in cui gran parte delle testate giornalistiche e delle TV ci hanno massacrato, anche certe volte diffamandoci la politica sempre contro il Movimento 5 Stelle, il male assoluto, come se fossimo arrivati vent'anni fa come gli altri partiti. Bene, decimo municipio, Ostia, il primo partito, il primo movimento, il primo candidato è il Movimento 5 Stelle. Con molti voti in meno però rispetto alle elezioni comunali, su questo converrà, e con un 36% di partecipazione al voto che dovrebbe preoccupare tutti, non solo voi, ovviamente. Assolutamente, come ci preoccupa l'assenteismo e la mancata partecipazione al voto, scusi, in Sicilia, questo è indubbio. E dopo c'è da chiedersi anche il perché di questo allontanamento, ovviamente. Però è un risultato positivo rispetto a tutto quello che abbiamo sentito, ripeto, tra difamazioni, attacchi politici assolutamente fuori dalla realtà e da parte di alcune testate giornalistiche su Roma. Io credo che con tutta questa storia essere arrivati comunque primi sia un ottimo, un grande risultato. Detto questo, prendiamo questi due risultati importanti per lanciare le elezioni del 2018, consapevoli che bisogna ricordare sempre ai cittadini che Berlusconi, Meloni e Lega Nord arrivano da un passato di governo disastroso che si è portato al crash finanziario o quasi, diciamo, e che riportano battaglie che loro non hanno assolutamente fatto nel governo. Ma, senta Ferraris, posso chiederle una cosa rispetto a Ostia? Perché è una partita tutta da giocare, c'è un ballottaggio tra la candidata del Movimento 5 Stelle, la candidata del Centrodestra e di Fratelli d'Italia e un fattore in quel ballottaggio saranno i voti di Casa Pound. Allora, io so che voi non fate appello ai partiti, quindi non chiederete a Casa Pound di votare per voi. Quello che le domando è se lei, non il Movimento, lo chiedo proprio al cittadino Ferraresi, se quei voti non li vuole, cioè quei voti che, come dire, piantano le proprie radici in un passato brutto di questo Paese, lei si sentirebbe di dire no, grazie, questi non li vogliamo? Attenzione, allora noi non chiediamo i voti a nessun partito come non diamo indicazione di ballottaggio a nessuno quando andiamo alle elezioni. I voti non sono però, mi scusi, di proprietà di un partito piuttosto che di un altro, i voti sono di cittadini, attenzione, che è una cosa molto diversa. Noi chiediamo il voto di tutti i cittadini, indipendentemente ovviamente, non lo sappiamo perché si va nelle urne e quindi un cittadino vota e lì non è che si porta la bandiera dentro. Noi non chiediamo i voti a partiti e non c'è l'indicazione a ballottaggio, chiediamo la fiducia invece dei cittadini sul nostro programma e sulle nostre idee che porteremo avanti, molto semplicemente, perché i voti non sono dei partiti ma rimangono ai cittadini. Allora, tornare su quell'aspetto dell'astenzione perché, lo dicevo, tutti i partiti si devono interrogare. Siccome voi siete state una risposta ai cittadini che erano, come dire, stufi dei vecchi partiti, forse una domanda in più ve la dovreste fare, no? Allora, a quelle persone che oggi non sono andate a votare, che ragionamento si fa, che narrazione si fa, che proposta politica si fa, andando oltre la narrazione? Io credo che tante persone non vadano più a votare perché sono state schifate letteralmente da chi ha fatto politica negli ultimi 30 anni. È difficile andare a prendere queste persone che hanno visto la delusione sia della sinistra sia della destra. È molto difficile soprattutto perché le informazioni sul Movimento 5 Stelle molte volte non arrivano in modo veritiero ma in modo diffamatorio. Ci stiamo provando dalla rete alle piazze a coinvolgerle e secondo me la risposta c'è. Richiede ovviamente molto tempo e noi ci riferiamo proprio a chi non va a votare cercando di fargli capire l'importanza del voto e l'importanza della responsabilità di salvare il Paese. Come, visto che si è parlato anche di derive di estrema destra, si combatte non sicuramente con leggi come la Fiano contro la propaganda nazifascista, ma si combatte con proposte serie, con programmi e con risposte per far uscire dalla povertà milioni di italiani, per ridare la speranza alle piccole e medie imprese, per cercare di togliere tutti i privilegi che hanno schifato i cittadini italiani. Noi queste proposte le abbiamo fatte da subito, siamo una forza politica che ovviamente ha cercato il coinvolgimento delle persone, ma sui temi concreti e abbiamo sempre discusso in Parlamento di temi concreti, non di poltrone ma di temi. Siamo stati la prima forza che ha parlato di vitalizi, ma non come è stato detto prima solo con la legge, che poi tra l'altro è la legge Richetti che è ferma al Senato e il PD dopo se ne è assolutamente dimenticato come tutti gli altri partiti e abbiamo chiesto il voto immediato e la risposta dei partiti è stata no, ma anche con regolamento parlamentare, quindi noi abbiamo percorso tutte le strade possibili, dalla riforma costituzionale, regolamenti parlamentari, la forma di legge, però i partiti ovviamente si vogliono tenere il malloppo. Noi i soldi li restituiamo già, ci dimezziamo lo stipendio e ne contiamo, rinunciamo ai rimborso elettorale e quindi più di così non si può fare dal nostro punto di vista, però la partecipazione deriva anche dal fatto che non si può magari in certi referendum chiedere ai cittadini di non andare a votare come ha fatto il PD e poi aspettarsi che le persone siano invogliate ad andare a votare. Bisogna fare un'opera culturale di educazione al voto, di responsabilità, di spiegare le leggi come sono e non magari gli slogan, allora in questo modo i cittadini ritorneranno a capire che le proposte della politica che fa la politica sono le proposte e le scelte che fanno i cittadini ogni giorno, semplicemente noi li prendiamo per la collettività e visto che la collettività rappresenta i diritti di tutti i cittadini, i cittadini devono andare a votare, noi ci prendiamo questa responsabilità ma parlando di temi e di proposte, non di slogan. Senta, poi verremo al tema dei confronti TV, varie eventuali, se ci saranno o meno, su quali canali, però lei ha detto in piazza e nella rete, a me è colpito un passaggio dell'intervista stamattina al Corriere della Sera a Luigi Di Maio, sono contento che l'abbia detto, però che la televisione serva per raggiungere tanti italiani è un concetto un po' lontano dal Movimento 5 Stelle dell'inizio, eravamo tutti morti, eravamo finiti, destinati a chiuderci perché il futuro era la rete, poi avete scoperto che la TV serve, no? Il futuro è la rete, indubbiamente, anche se l'Italia è uno degli ultimi posti in Europa per diffusione della banda larga, quindi ancora ne dobbiamo fare di strada. Dice, intanto c'è il presente, però a quello bisogna farci. Certo, certo, no, io credo che tutti i mezzi di informazione siano essenziali. È ovvio che un movimento che non ha televisioni, non ha giornali come il PD e Forza Italia, credo che nella rete possa svolgere un ruolo di informazione che arrivi pulita, senza intermediazioni, che in alcuni casi, non tutti, sono stati dal mio punto di vista vergognosi, perché noi non chiediamo di sostenere il Movimento 5 Stelle, chiediamo semplicemente di spiegare la realtà e quello che avviene in Parlamento, non tanto gli slogan, ma quello che succede, poi con le critiche e i punti positivi del caso. La televisione ovviamente è importante perché tante persone, anche perché hanno perso la fiducia, non vanno magari in piazza, non si formano in rete perché ancora non è così sviluppata, guardano la televisione e noi come vede siamo qui a spiegare anche le persone. Noi infatti siamo contenti, onorevole, siamo contenti, l'ho messo in primessa che ci fa piacere, perché siamo felici che questi dibattiti e questi confronti si sviluppino, poi bisognerà capire con chi, poi ci arrivo sul tema Renzi che è scappato da… Ma senta Ferraresi, ma lo vedremo il nome di Di Maio sul simbolo del Movimento 5 Stelle? Ci state pensando? Non credo proprio, noi siamo la forza politica che in Sicilia e alle nazionali credo che abbia espresso il candidato premier, per dirla non certo a livelli di Costituzione, cui il candidato ovviamente Presidente del Consiglio viene espresso dalle forze parlamentari, indicato insomma dal Presidente della Repubblica, ma da questo punto di vista noi possiamo dire di avere un capo della forza politica, come dice la legge elettorale, è un programma prima di tutti gli altri partiti, quindi noi abbiamo quello che sarà il nostro candidato premier, abbiamo il programma, lo faremo prima di tutti gli altri e speriamo che si parli anche di programmi e di proposte, non solo di nomi, perché il Movimento 5 Stelle in primis porta avanti il programma qualunque persona ci sia e poi si parlerà di persone, questo è molto importante nel nostro movimento, perché si è sempre data troppa visibilità al nome, poco alle proposte politiche, soprattutto perché queste una volta entrate in Parlamento venivano sempre disattese poi dalle stesse, quindi sicuramente Di Maio è un ottimo candidato, credibile, istituzionale che sfiderà ovviamente i suoi avversari, i candidati premier, però dobbiamo ancora capire chi saranno. Infatti la cosa, quello che immagina Di Maio, poi alla fine non capisco, ma evidentemente decide il Movimento 5 Stelle, se l'hanno indicato, l'hanno scelto, l'hanno votato, perché non metterlo comunque come capo del Poligno? Perché uno vale uno, giusto? No, volevo solo... Perché escludere questa possibilità? Se ci sarà questa decisione di cambiare il simbolo lo sarà fatto con un intervento eventualmente anche votato in rete, io non ho detto che escludo Di Maio sul simbolo, ho semplicemente detto che in questo momento non credo che la persona valga più del programma, poi se ci sarà questa decisione verrà presa tutti insieme, credo anche con un voto per cambiare il simbolo, perché l'abbiamo fatto precedentemente e lo dovremo fare per quello nuovo, semplicemente sarà una scelta che sarà fatta tutti insieme. La votazione fu per togliere la dicitura beppeghillo.it e mettere quella del nuovo sito, no? Del Movimento 5 Stelle, quindi io non garantisco nulla in questo momento. Ah no, ma l'ha detto, senta Ferrarisi, visto che futuro è la rete, voi siete nati sulla rete, il programma l'avete costruito in rete con delle votazioni punto per punto, ecco, è tranquillo? Su questa campagna elettorale che ci aspetta, con l'esperienza americana, con le infiltrazioni, il peso di potenze straniere anche in voti non solo come quello americano, si sente tranquillo da quel punto di vista? Lo chiedo a chi siede in Parlamento, io no, dal mio modestissimo. Ma siamo non tranquilli, diciamo, da cinque anni, quando siamo entrati in questi palazzi abbiamo visto queste facce di Verdini, Napolitano, Renzi, Berlusconi. Sì, ma non ce lo vedo Verdini fare l'hacker, però dai, su questo... No, 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 per quanto riguarda le votazioni, ovviamente il nostro è un sistema che si è sviluppato, il sistema Lex, il sistema Rousseau, si è sviluppato nel tempo e quindi ha bisogno di tempo per arrivare al regime. Io credo però che in questo momento la piattaforma ha raggiunto un livello di sicurezza buono e che il programma è già stato formato da voti che non hanno ricevuto problemi di sorta, sia per quanto riguarda i quesiti, sia per quanto riguarda le proposte di legge, che noi discutiamo con i cittadini sulla rete e credo che sia la prima volta al mondo che succede una cosa del genere, ovvero che un gruppo politico costruisce il programma insieme ai contributi dei cittadini su internet. Questo è molto importante dal mio punto di vista, non l'ha mai fatto nessuno e questo programma sarà poi appunto depositato per le nuove elezioni. Io credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, certo si poteva fare meglio, certo la sicurezza è sempre una questione molto molto delicata, soprattutto su internet, ma non solo per noi, ma per tutti i sistemi, anche quelli più all'avanguardia, quelli che hanno più sicurezza, però dal mio punto di vista il lavoro è fatto, proseguirà ovviamente sulla rete, terremo sempre informati i cittadini anche con programmi che possano spiegare ai cittadini quello che stiamo facendo e quelle che sono le istituzioni, perché questo è molto importante anche, il messaggio culturale che diamo oltre ovviamente al messaggio politico e partitico, anche quello di cultura, della partecipazione alla politica. Questo credo che la rete l'abbia ampliato grazie al Movimento 5 Stelle. Vorrei sentire lei su questo punto, perché voglio dire, è un passaggio, veniamo dalle liste, dall'elenco dei buoni e dei cattivi, insomma, stati quattro anni complicati per tutti, diciamola così. Guardate, io ve lo dico molto sinceramente, il Movimento 5 Stelle in Parlamento con i fatti ha dimostrato a mantenere e garantire l'indipendenza e la libertà dei giornalisti. Le faccio solo tre ipotesi. Primo, diffamazione mezzo stampa, che è una legge ancora ferma, ci siamo impegnati in prima linea. Secondo, intercettazioni. Sta per uscire, anzi è già uscito, un decreto legislativo del Ministro Orlando, il governo Gentiloni, PD, Renzi, che addirittura porrebbe delle sanzioni ai giornalisti che pubblicano le intercettazioni. Allora, visto che questa battaglia è stata fatta insieme anche alla Federazione della Stampa italiana e a tanti giornalisti che hanno creato ovviamente l'allarme, hanno lanciato il grido d'allarme e tanti ovviamente anche esperti in questo settore che hanno detto di come ci fosse un vero e proprio bavaglio sia alla stampa sia all'informazione, in ogni caso che arriva ai cittadini, sui politici e sull'istituzione di questo Paese, il Movimento 5 Stelle l'ha sempre fatta in prima linea, senza risparmiarsi un attimo glielo dice quello che è stato il relatore di minoranza a quel provvedimento. Detto questo, non possiamo però accettare che certi giornali che vengono finanziati da gruppi editoriali riferiti ai partiti, possano diffamare il Movimento 5 Stelle senza mai essere toccati. Perché è vero che la democrazia si basa anche sul pilato dell'informazione, ma è anche vero che non mettendoli tutti nel mucchio ovviamente, ma facendo, e noi li abbiamo sempre indicati, nomi e cognomi proprio per quello, perché in quegli articoli di talvolta della Repubblica, della stampa, dell'unità, quando c'era, del giornale e di fatto quotidiano, scusi, di libero quotidiano, c'erano delle cose che non corrispondono in realtà, ma solo alla diffamazione per mera di mentalizzazione politica. Guardi che l'editore pure è un concetto che sta in metafisica, comunque questo non sta nella realtà delle cose, però visto che abbiamo parlato, il 9 di gennaio c'è l'udienza preliminare per l'inchiesta che vede indagata Virginia Raggi, teme che quella vicenda possa, come dire, vivere l'esito processuale nel corso della campagna elettorale che possa danneggiarvi? Mi permette intanto una battuta, mentre io parlavo di libertà di stampa, la vostra barra in basso dava fino chiaro, libero vergognoso, il giornale è libero vergognoso, quindi insomma mi permette che certe volte quando i giornali esagerano vanno... Ha fatto un titolo bruttino però, io stamattina l'ho commentato così... E' un punto che dicevo che quando si esagera non credo che siamo i soli a farlo notare. Sì, ma non nessuno fa una lista di giornalisti e la porta al Presidente dell'Ordine dei giornalisti, Onorevole Ferraresi, quello è stato il guaio dell'Onorevole Di Maio, che oltretutto è un Vice Presidente della Camera, un Vice Presidente della Camera che fa una lista di giornalisti cattivi e la porta al Presidente dell'Ordine è una cosa che vuole al mondo. L'ha fatta al blog e non Di Maio. L'ha fatta al blog di Grillo e non Di Maio e secondo me su certi aspetti indicando nome e cognomi di chi ha scritto falsità ha fatto assolutamente bene perché bisogna finirla. Anche rispetto a tanti giornalisti che fanno bene il loro lavoro. Mi dà il flash sulla Raggi perché poi c'è una chiusura. Certo, io credo che la Raggi abbia già spiegato, abbia dato risposte pronte per quanto riguarda la sua indagine, alcuni capi sono stati archiviati e ha già dato tutte le risposte che doveva dare. collaborerà ovviamente come ha sempre fatto con la giustizia e credo che in questo caso non avremo risvolti negativi perché le risposte sono la cosa più importante che si deve dare quando ci si affaccia a responsabilità così delicate, soprattutto sulla giustizia. Il Movimento 5 Stelle con il codice etico le ha date pienamente. Saperò che non è problema di collaborare, non sarebbe nei primi mesi del 2018 quello di collaborare ma di andare a processo che è una storia un po' diversa. Però ovviamente c'è un'udienza preliminare, è tutta una storia da scrivere e che ovviamente racconteremo. Ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti.